Il giovane Riva è fatto di puro istinto. Ecco perché il suo allenatore Silvestri decide di cambiargli ruolo, da alla sinistra a centroattacco. Riva accetta la sfida e inizia ad allenarsi senza un attimo di tregua. Mi andavo a campo mezz'ora prima degli altri e finivo mezz'ora dopo gli altri. Il Cagliari vinse anche con la Juventus, 1-0 con un gol di Riva, un gol memorabile. Entrò in area dalla destra e calciò di destro, è uno dei pochissimi gol che ha segnato di destro. Gli uscì un diagonale lento che andò proprio a infilarsi vicino al palo. Nel gerone di ritorno Riva mette a segno sette reti decisive ed il Cagliari...